Cari spettatori del Cinevirus, oggi vorrei parlarvi di Pedro Almodovar, un maestro amatissimo quanto contestatissimo, provocatorio e trasgressivo, il cui cammino si intreccia con quello della Spagna che esce dal franchismo ed è desiderosa di esprimere fino in fondo la potenza appunto del desiderio così rimosso in tanti anni. Quello che accade nei suoi primi film, che poi però lentamente danno spazio ad una introspezione sempre più profonda, sempre più sottile, sempre più personale e vissuta nel sentimento. Almodovar è uno straordinario raccontatore del sentimento nella sua purezza, ovunque stia, prima di darne qualunque giudizio. Così accade in todo sobre mi madre, tutto su mia madre. Manuela, Cecilia Roth, è una madre che ha visto il figlio travolto da una macchina all'uscita da un teatro mentre inseguiva la macchina su cui era l'interprete di un tram che si chiama Desiderio. E allora decide di tornare indietro a Madrid per andare a incontrare il padre di questo figlio che nel frattempo è diventato un transessuale, Lola, che ha un amico e un compagno con cui vive a grado anche lui transessuale. E da lì il film ci fa conoscere in modo sorprendente questi personaggi, questa galassia di umanità. Una suora laica, Penelope Cruz, che ha un figlio, sta per avere un figlio, anche lei da Esteban, e poi l'attrice, Uma, Marisa Paredes, in una sorta di circolarità, perché alla fine nascerà questo figlio e si chiamerà anche lui Esteban. Ma non è tanto la storia che interessa in questo film, è questa capacità straordinaria di Almodovar e di entrare in ascolto dei sentimenti di questa umanità profonda che lui sente, sempre con questa velatissima ironia che è un ulteriore segno di umanità, con questo sguardo che ci ricorda, senza voler essere retorici, ma è così, la pietas, la pietas classica, che comprende i sentimenti prima di darne un qualunque giudizio. Todo sobre mi madre, Pedro Almodovar.